Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 prudenza per nebbia tra Roncobilaccio e Aglio. Sempre in A1 segnaliamo la chiusura per attività di ispezione all'interno delle gallerie tra Pian del Voglio e Rioveggio nei due sensi di marcia. In Cipili prudenza per pioggia tra Firenze e BVOSGC Cipili di Ramazione e Pisa. Per lavori segnaliamo la presenza di personale su strada in entrata e in uscita a Montelupo nelle due direzioni e tra Impoli e Tempoli Est verso Firenze. Un sguardo al traffico navale, il traghetto Livorno-Capraia-Isola delle 8.30 partirà con 4 ore e 45 di ritardo. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.